Comuni Ricicloni 2024, premiati da Lega Ambiente. A Roma, primi sul podio i comuni del nord-est, risultati migliori a livello nazionale nella gestione dei rifiuti. Il Veneto si conferma primo in classifica in Italia, per numero di comuni virtuosi. Ben 173 su 560, con una percentuale del 30,9%. Treviso in testa tra i capoluoghi, record anche a Vedelago, seguito da Preganziole Paese. Loria tra i centri sotto i 15.000 abitanti. A Treviso raccolta differenziata all'85%, con una produzione di secco pari a 57,1 kg pro capite. Dati che nessun altro ha riuscito a raggiungere. Sul palco il sindaco Mario Conte, che ringrazia così il Consorzio Priula e Contarina. Piano piano la sticella è sempre più alta, devo dire che il merito è della mia comunità e del Consorzio Priula e di Contarina, che creano le condizioni per la comunità di poter svolgere il loro servizio e senso civico attraverso una raccolta rifiuti, porta a porta, che quest'anno compie dieci anni. Quindi siamo arrivati tardi, magari rispetto al resto della provincia, però altrettanto vero che siamo partiti molto prima. L'unica cosa che dico, io arrivo dal Veneto, una regione che chiede a gran voce l'autonomia. Non temiate l'autonomia, credetemi, non temiate. Oggi parliamo di un'Italia a macchia di leopardo e l'autonomia non c'è. L'autonomia significa assunzione di responsabilità e qui dentro siamo tutte persone molto responsabili.